Il festino di Santa Rosalia sarà firmato ancora una volta da Lollo Franco. La commissione che ha esaminato i progetti infatti ha assegnato provvisoriamente la gara per 225.000 euro alla VM Agency di Vincenzo Montanelli. L'affidamento è biennale, per Franco si tratta del secondo biennio consecutivo. La 394esima edizione ha al centro il tema dell'infanzia e di Palermo bambina. Delle sette proposte in gara, due sono state escluse per ragioni tecniche. Panastudio Tecnoline e Macchina. Altre tre invece sono rimaste sotto la soglia dei 50 punti. Doc Servizi, Terzo Millennio e Namaste. La VM Agency ha avuto la meglio sull'agave spettacoli grazie ad un ribasso economico che ha portato il prezzo a 207.000 euro. Entro cinque giorni la società è escluse e potranno presentare ricorso al TAR. Nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura hanno spiegato il sindaco Orlando e l'assessore Andrea Cusumano e per il giorno della ricorrenza più importante della città, Palermo sceglie di sentirsi bambina, capace di guardare con fiducia al futuro, capace di immaginarlo e costruirlo. Palermo si richiama all'infanzia, al suo essere vivace, multicolore, curiosa e accogliente, libera da pregiudizi, da violenza, da discriminazione. Allo stesso tempo Palermo bambina simboleggia la città fragile e che sta crescendo, di cui tutti dobbiamo e possiamo prenderci cura, per il cui futuro tutti abbiamo il diritto e il dovere di impegnarci, liberandoci da ogni forma di peste. Il corteo del festino partirà nel tardo pomeriggio del 14 luglio dal pieno del Palazzo Reale al Foritalico e si snoderà a lungo corso Vittorio Emanuele con tappe come di consueto alla Cattedrale, Quattrocanti e Piazzetta Santo Spirito, con eventi e manifestazioni a corollario che coinvolgeranno anche le piazze Pretorie, Bellini e infine al Foritalico Umberto I con il classico spettacolo dei giochi pirotecnici.